Andiamo al Senato adesso, riprendiamo il nostro argomento con Nicola Morra dei 5 Stelle. Buongiorno Morra, io spero che il collegamento e l'audio, perché so che c'erano dei problemi, ci possa invece supportare. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sembra che ci sia un collegamento efficace adesso. Va bene, non lo diciamo. Allora, mi spiega perché ai 5 Stelle non piace questa legge elettorale? E perché vi sfavorirebbe? Allora, il Movimento 5 Stelle ha espresso un giudizio fortemente negativo sulla legge, perché è irrazionale, illogica e dunque non democratica. Con questa legge, di fatto, l'elettore vota bendato, esattamente come abbiamo voluto simboleggiare ieri in aula, perché a seguito di perversioni che chi ha ideato il sistema elettorale in questione ha pervicacemente perseguito, si entra convinti di votare A e poi in quota parte il voto dato A arriva A, B, C, D e così via. Naturalmente, nella inconsapevolezza dell'elettore. Per cui, come hanno sostenuto anche, per esempio, Walter Tocci, esponente del Partito Democratico, che però si rifiuta di votare questa legge elettorale, ci sono degli effetti perversi, diabolici, che tradiscono lo spirito per cui l'elettore debba avere un voto libero, eguale e personale. Noi abbiamo sollevato questioni di costituzionalità, ma soprattutto reputiamo che questa legge tradisca l'intenzione dell'elettore. D'altronde è stato lo stesso Valerio Onida, ex presidente della Corte Costituzionale, a parlare di alterazione e manipolazione dell'intenzione di voto. O addirittura Paolo Mieli, ex direttore del Corriere della Sera, a definire questa legge una schifezza, una porcata criminale utilizzata contro qualcuno che non fa accordi, qualcuno che non ha interesse a operare negoziazioni al ribasso. Evidentemente, ma questa è la tesi di Mieli, si vuole favorire un ritorno alle cosiddette larmi tese, tradendo ciò che poi si dice in campagna elettorale al proprio elettorato. Voi fate un appello al capo dello Stato e poi tra l'altro oggi avete anche una manifestazione, no? Se non sbaglio. Sì, io rinnovo l'invito a tutti i cittadini. Noi ci troviamo qua al Pantheon alle 14, inizieranno le dichiarazioni di voto sulle cinque operazioni di fiducia per i cinque articoli per cui verrà richiesta. Vogliamo dialogare con i cittadini, vogliamo far capire loro che questa non è una legge contro il Movimento 5 Stelle o contro qualcun altro, è innanzitutto una legge contro l'elettore perché l'elettore, credo, credo, in democrazia quando vota, vuole sapere con una ragionevole certezza chi va del suo voto e chi debba fruirne. Con questa legge c'è un effetto, diciamo così, perverso e di accecamento per cui votando in un certo modo tu vai a favorire tante altre liste, tante altre formazioni politiche che con il tuo voto avevano ben poco a che fare. Io ricordo a tutti che gli stessi proponenti questa legge con l'Italicum avevano, diciamo così, schifato la logica coalizionale perché l'Italicum non ammetteva coalizioni. Invece con questa legge non soltanto le coalizioni ritornano, ma ritornano in maniera tale da poter mettere a tavola anche coloro che prendono fra l'1 e il 3% o addirittura in alcuni casi anche meno dell'1% purché abbiano due eletti in collegioni nominali. Non voglio entrare in questioni di merito, però ecco, l'elettore dovrà capire, dovrà sapere che qui il legislatore lo sta prendendo per i fondelli. E francamente da cittadino italiano, prima ancora che da eletto, io mi sento offeso da questa volontà pervicace di offendere l'intelligenza dell'elettore e la filosofia della democrazia. Senta Morra, poi lascio la parola alla replica Ermini, ma perché a giugno avete fatto saltare il tavolo? Allora, che questa è la cosa più ricorrente che vi viene chiesta. Allora, no, 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 mi dispiace. Il tavolo è saltato perché a fronte di un emendamento proposto da una deputata di Forza Italia, perché l'emendamento era della bianco fiore, Noi abbiamo dichiarato come è stato poi che avremmo votato a favore perché il sistema elettorale del Trentino Alto Adige ha delle particolarità che non ci piacevano e che non erano state affatto incluse nell'accordo. È stato qualcun altro che causa pessimo funzionamento del display, è stato svergognato perché sono stati i parlamentari del Partito Democratico che hanno votato alcuni rosso, alcuni verde e alcuni non hanno addirittura votato. È notorio che il Partito Democratico da solo ha la Camera, ha la maggioranza, per cui bastava che il Partito Democratico votasse con patto e problemi non ce ne sarebbero stati. Invece quell'emendamento è passato per defezioni da parte del Partito Democratico, non era parte dell'accordo e questo dimostra che all'interno del Partito Democratico appena c'è un voto segreto saltano. E questo è anche uno dei motivi per cui al Senato addirittura non soltanto hanno replicato la posizione della questione di fiducia, ma addirittura ieri l'hanno fatto cercando di strozzare la discussione generale. È vero che i regolamenti vengono puntualmente calpestati in funzione dell'interpretazione delle presidenze, ma è altrettanto vero che se si calpesta il diritto delle opposizioni di poter testimoniare le loro opinioni, le loro valutazioni sui provvedimenti che sono in essere, a questo punto si chiudesse il Parlamento, si vota soltanto per leggere l'esecutivo e poi almeno agli italiani sarà chiaro come si è governati. Allora, la replica di Ermini e poi la Fusani voleva fare una domanda. No, due cose solo sulla storia. L'emendamento non era solo di Biancofiore, ma era anche di Fraccaro, del Movimento 5 Stelle. Quando si fanno gli accordi... Allora, l'emendamento è stato proposto dalla Biancofiore e Fraccaro l'aveva confirmato in commissione. Quando, appunto, ho detto c'era la firma di Fraccaro, che ho detto io. Allora, il tema è questo. Sì, 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 la prima firma l'ha presentato proprio a Biancofiore. Senatore, se si fa un accordo, si evita la possibilità di incidenti, se no non è un accordo. Se no noi diciamo si fa un accordo generale e dopodiché ognuno presenta gli emendamenti che gli pare, mi faccia finire per cortesia, io sono stato in religioso silenzio. Se uno presenta gli emendamenti che gli pare e a quel punto siamo tutti liberi di votare come si vuole. Gli accordi, io li intendo in un altro modo, gli accordi si fanno e si ha la capacità anche della gestione del gruppo nel momento in cui si fanno gli accordi. Sul fatto dei pallini rossi e dei pallini verdi, abbiate pazienza, ma io l'indice, il pollice dei vostri responsabili di gruppo me li ricordo. Quindi stendiamo un velo pietoso su quell'episodio. Io dico, il PD non ha la maggioranza alla Camera, questo è falso, il PD, il gruppo del Partito Democratico da solo non ha la maggioranza alla Camera. Questo lei lo dovrebbe sapere perché basta leggere un numero. Sui voti segreti vorrei sottolineare che voi siete quelli che avete sempre fatto la battaglia contro i voti segreti. Perché avete sempre detto che non volete gli inciuci nascosti, siete quelli degli streaming che poi avete naturalmente sotterrato, siete quelli che volete essere intercettati, però i vostri vanno a parlare sul tetto per non farsi sentire, poi siete quelli che volete la trasparenza su tutto e invece adesso voi utilizzate questi sistemi da Prima Repubblica per cercare di lavorare in modo abbastanza subdolo con alcuni del PD o comunque della maggioranza che non vogliono votare questa legge. È tutto legittimo, però i cittadini bisogna anche rispettarli dicendo qualche volta la verità e mantenendo una coerenza di posizione. Cosa che decisamente su di voi mi pare che ultimamente qualche discussione ci possa essere sulla coerenza. Siete stati perfino a Cernobbio, quindi lasciamo fare. Allora, io penso questo, sulla legge elettorale si può discutere, si può discutere il voto disgiunto o non voto disgiunto. Anche gli importanti costituzionalisti che avevano sostenuto la battaglia sul no oggi dicono che questa legge è costituzionale anche se ci sono delle cose che vorrebbero cambiare. Io mi ricordo di aver letto un'intervista... Alcuno dice anche che c'è qualche rischio di incostituzionalità. Vabbè, i rischi di incostituzionalità ci sono su tutte le leggi che vengono fatte dalla destra o dalla sinistra. C'è anche gli altri che vengono già pronti a fare ricorso alla costituzionale. Vabbè, lo faranno e decideranno... Questo però il ricorso verrà dopo. Però io credo che finalmente i cittadini italiani possano andare al voto con una legge fasta. Coni conosce il suo candidato di collegio. Se io e il senatore Morra siamo candidati nello stesso collegio, chi vuole votare per me, vota per me, chi vuole votare per Morra, vota per Morra. Questo è l'elemento caratterizzante. Dopodiché, se mi chiede se volevo più collegi, sì, volevo più collegi. Io sono uno di quelli che dovrebbe tutti collegi. Però non si può fare perché non ci sono i numeri... Morra! Se voto per lei, voto per lei? Sì, torta. Oppure no, voto per qualcun altro. Perché ho ascoltato in religioso silenzio. Allora, vorrei ricordare ad Ermini, perché Ermini sciocco non è, che quando si vota per il collegio uninominale maggioritario, con la legge che hanno realizzato, si vota anche in quota parte per il collegio plurinominale. Ed è là che c'è la schifezza. Là c'è la porcheria. Per cui noi abbiamo chiesto insistentemente, con emendamenti, che abbiamo cercato di far valutare nel merito, in Commissione, che quantomeno si ripristinasse la logica del mattarellum. E il mattarellum l'hanno proposto loro, per cui o scorporo oppure voto disgiunto. Non c'è stato inverso, non c'è stato niente da fare. Per cui lascio stare tutte le, diciamo così, assurdità che sono state ricordate dal collega Ermini. Vorrei semplicemente ribadire un fatto. Noi siamo contro il voto segreto, certo, ma siamo anche contro una forzatura dei regolamenti parlamentari che sta avvenendo puntualmente senza che vi sia da parte della stampa, dell'informazione, delle televisioni, la giusta informazione. Per questo motivo noi abbiamo preparato non 50 emendamenti, che sia chiaro, una decina di emendamenti al Senato, una decina di emendamenti con cui, e dovevano ancora passare l'ammissibilità da parte della Presidenza e l'Aula, con cui si sperava di poter ottenere che tanti parlamentari del Partito Democratico potessero, e non soltanto, perché anche all'interno delle altre forze politiche che hanno sottoscritto l'accordo ci sono grandissimi problemi. Io ci parlo con i colleghi, quelli degli altri gruppi, e sono loro che dicono che se potessimo votare con il voto segreto allora vedremmo un pochino i risultati ben diversi. Il vero fatto scandaloso è che si debba ricorrere al voto segreto per ottenere un voto libero, e questo dall'idea del clima di asservimento che è tipico delle istituzioni parlamentari. A me nessuno ha chiesto di votare in alcun modo. Noi abbiamo sempre ragionato con la nostra testa, facendo anche magari assemblee difficili, assemblee ruvide, ma sempre e soltanto con la nostra testa. Sono altri che subiscono dei diktat, oppure vengono trasferiti alla Commissione perché annunciano che voterebbero contro il loro leader di partito. Poi vorrei ricordare che ieri è stata anche negata la possibilità della discussione generale. Non so se mi spiego. Abbiamo dovuto occupare i banchi del governo affinché venisse ripristinata una prassi che da nessuno in precedenza era stata negata. Perché una cosa è porre la questione di fiducia, una cosa ben diversa è porre la questione di fiducia anticipando la discussione generale. A questo punto mi si deve dire, siccome il Parlamento è il luogo in cui ci si parla e ci si confronta, se neanche parlare è possibile. Che cosa lo teniamo aperto a fare? E' chiaro il discorso. Allora, Civati e poi arrivo. E poi dovrei dire a Dermini tante e tante altre cose perché c'è le cose che sono state dette a Dermini meriterebbero tutti quanti. Immagino, immagino. Civati, su questa è una linea che vi unisce, no? La vostra protesta. No, inizia tutte le persone normali che guardano il Parlamento e si chiedono perché non si può nemmeno fare la discussione generale. Cioè, stiamo arrivando a... Ma non voti la legge? Ma cosa stai dicendo, Fusani? Ma la discussione generale si è sempre fatta. Ma cosa vuol dire? Ma la sposti di una settimana la discussione. Ci dovevi pensare per cinque anni di legislatura. Ma cos'è questo discorso? Allora, adesso aboliamo il Parlamento. L'aula era vuota cosa? L'aula era vuota in venti alla Camera. Io sono intervenuti in aula alla Camera. Vatti a vedere il video. Non dire cose che non stanno né in cielo né in terra. Ieri sera è cominciata la discussione generale. Ma così si va veramente nel ridicolo. No, io quando è fatti, onorevole Civati. Quello che diceva Morra... Allora, un attimo solo, finisce Civati. Finisce Civati, Morra. E questo ha sollevato le proteste di tutte le opposizioni. Ovviamente. Il punto è che hanno fatto una legge per non far scegliere i cittadini. E non fanno scegliere nemmeno a chi la vota. Perché i dieci emendamenti di Morra, i nostri due emendamenti fondamentali, il disgiunto e la selezione delle candidature, non piacciono le preferenze primarie per legge. No? Però non si va coi foglietti, si va al seggio e si vota per scegliere l'ordine dei candidati. Altre soluzioni. Noi le abbiamo avanzate. Non è stato possibile discuterne. Manca, non c'è tempo. Non è un argomento, si sta anche il fine settimana e si fa fare la discussione generale a Morra, a Civati, a Ermini, a tutti noi. Notte e giorno. Da ultimo, la battuta di Morra, spero che non l'ascolti nessuno, perché quando dici di non fare più le elezioni del Parlamento e di votare solo il governo, secondo me qualcuno l'ascolta. Morra, non dirlo più, perché c'è il rischio che nella prossima legge fatta da Verdini ci sia anche quello. No, ma gli facciano il rifanno. Scusate, ci sia anche voi. No, allora io non difendo, io faccio il giornalista e non difendo... Il ricorso continuo alle fiduce e prassi soprattutto di questa legislatura. Non dirlo neanche per scherzo. Si è accentuato. Cusani. Allora, io non devo difendere nulla e nessuno, faccio cronaca. Allora, nell'ordine, ritorno sulla legge elettorale a giugno e ricordo che il patto in Commissione Affari Costituzionali prevedeva che non sarebbero stati presentati emendamenti e appena arrivate in aula l'emendamento fu presentato fra Caro e Biancofiore. Cosa era successo in quelle ore? Che la vostra base elettorale, tramite il blog, tramite il blog c'era stata una rivolta. Quindi voi vi siete subito sintonizzati, giustamente, con la vostra base e avete fatto saltare l'accordo. Perché voi eravate al tavolo in quell'occasione. Vado random per punti. L'occupazione dei banchi del governo, io vorrei rendere onore alla senatrice De Petris, ex SEL, insomma, adesso articolo 1, eccetera. E' stata lei ieri la prima ad occupare i banchi del governo. Quindi rendiamo onore anche a chi fa le cose. Poi voi l'avete occupato dopo perché vi siete accorto che quello era il fatto veramente forte. Andiamo oltre però, diciamo. Sui voti segreti avete già risposto sul posto di Pietro Grasso, che è cosa ben diversa perché la presidenza dell'aula è altra cosa rispetto ai banchi del governo. Uno rimane perplesso quando vede che proprio voi che avete fatto battaglie contro il voto segreto utilizzate il voto segreto. Un po' di più. Anni, ma mi spiega perché qua neanche si possa fare la discussione generale. Mi spiega perché mai si debba ricorrere alla fiducia sulla legge elettorale quando era stato lo stesso Gentiloni, quando si è insediato, a dire che mai e poi mai il governo sarebbe entrato su questi argomenti. Ma vogliamo scherzare. Ma non lo capiamo che siamo in emergenza democratica. Ci deve essere civati a ricordarglielo in studio. La democrazia si va costruendo le norme. Si va a votare senza la legge elettorale. Mussolini, se ne sembra normale, mi fa piacere, ma io ho una concessione della democrazia un po' più grande. La ci pende Mussolini, che forse non sa neanche cosa ha fatto Mussolini. Però scusate, Ermini, se è previsto da un regolamento e comunque è previsto un'iter... Ma non c'è nessuna discussione generale. Vabbè, allora chiudiamo però. Ma la discussione generale può essere, a un certo punto, il regolamento prevede che può essere interrotta la discussione generale. Ho avuto però averlo iniziato. Perché può essere... Ma guardate, ma non è che in Commissione non si è parlato. Sembra che il Parlamento l'abbia discusso. Allora, scusate un attimo, Ermini, sentiamo Morra. Per questo evidentemente si vuole concedere. Stavo dicendo che la Presidenza dell'Aula, Grasso, aveva previsto l'apertura possibile dell'Aula fino a venerdì mattina. Appunto, al fine di garantire il normale, regolare, svolgersi del dibattito. Se il Ministro Finocchiaro non si fosse alzato ieri per chiedere immediatamente la questione di fiducia, per apporre la questione di fiducia, non ci sarebbero state proteste. E torna di Peter, perché la precisione è un dovere nell'informazione. La senatrice De Petris è andata di corsa a sostituirsi al Presidente Grasso sedendosi sul suo scranno. E noi abbiamo successivamente occupato i banchi del governo. Perché la verità storica ha un valore che non può essere smentito da chi ricorda male. Abbiamo detto la stessa cosa, Senatore Morra. Ho rivendicato la senatrice De Petris, scusate, al di là di chi ha occupato il banco. La senatrice De Petris è stata la prima a fiondarsi, uso volutamente questo verbo, per dare l'idea della velocità dell'immediatezza con cui Loredana De Petris ha operato questo passaggio sul posto di Pietro Grasso. Ma i banchi del governo sono altra cosa. Che però, ecco, questo deve essere chiaro, non si permetta neanche alla discussione generale da l'idea di un clima in cui non si può neanche dire qualcosa di diverso da quello che vuole il produttore. Morra, l'ultima cosa. Domani ci sarà questo voto. Poi il Movimento 5 Stelle come si regolerà? Ma guardi, noi andremo il prossimo fine settimana in Sicilia a fare campagna elettorale. Noi dobbiamo far sapere a tutti gli italiani che cosa sta avvenendo in questi palazzi. Visto che alcune fonti di Informamo così sbogliate, superficiali, hanno far sapere ai cittadini che si sta togliendo loro il diritto di votare. Torna a ripetere, come ripetiva anche lo stesso Civati, questa è una legge per cui tu voti A e in quota parte il tuo voto fa anche a finire B, C e D e così via. Questa è la logica che ha permesso la resurrezione delle coalizioni che qualcun altro aveva ritenuto la morte della democrazia, qualcun altro aveva profetizzato la vocazione maggioritaria. Renzi con l'Italicum aveva fatto una legge che andava in direzione del tutto opposta. E voglio ricordare anche che contro quella legge che secondo molti ci favoriva noi ci siamo battuti con uguale energia per cui a noi non interessa chi favorisca la legge. La legge elettorale deve favorire soprattutto l'intenzione di voto dell'elettore. E questa è la calpesta. Grazie Morra, grazie. Devo salutarvi per questa...